Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, coda di 3 km con tendenza all'aumento tra Firenze Sud e Inciso Reggello in direzione Roma. Sullo stesso tratto, in carreggiata opposta, rallentamenti per curiosi. Ci spostiamo sulla Firenze Mare per traffico, code e rallentamenti tra Sesto Fiorentino e Firenze Peredole, tra Prato Ovest e il Vivo con l'A1, tutto verso il capoluogo. In Fipili per lavori, 2 km di coda verso Firenze, tra Empoli e Montelupo, in carreggiata opposta, rallentamenti tra Ginestra e Montelupo. Siamo al traffico ferroviario, Trenitalia informa che per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno di altra impresa ferroviaria tra le stazioni di Compiobbi e Pontassieve, i treni in linea potranno subire ritardi fino a 35 minuti. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente in piazza Batoni. Buona versi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!